Buonasera, sono Laura Antichi e oggi vi presento Google Earth, un'applicazione per viaggiare, trovare luoghi e culture in modo virtuale nel mondo ed è anche molto di più, come vedremo. Le immagini e le fotografie che vengono rese disponibili sono satellitari. Ingloba Street View in Google Maps che permette di percorrere strade visualizzandole a 360 gradi. La versione online presuppone l'uso di Chrome e la Pro, questa versione Pro, è gratuita. L'applicazione è disponibile per desktop, per Windows, Mac e Linux. Sono disponibili anche le app per smartphone e tablet. L'uso di Google Earth è molto intuitivo e negli studenti attiva capacità di ricerca, orientamento geospaziale sulla Terra e apprendimento delle culture. Si possono percorrere in 3D luoghi vicini e lontani per esplorarli creando percorsi. Utile in tutte le discipline, per la geografia, le lingue, l'antropologia, la storia, gli eventi ambientali in mutamento. Permette di creare progetti e narrazioni esplorando e documentando. Con lo strumento Time Lapse è possibile visualizzare i cambiamenti del suolo terrestre nel tempo. Questo è utile per affrontare, ad esempio, lo studio dei cambiamenti climatici legati a COP26. Offre immersione nei luoghi e la comprensione delle diversità del pianeta. L'immersione può essere anche più profonda se si usano i visori di realtà virtuale e cardboard. Andiamo ora a vedere Google Earth dal web, navigando in Chrome. Scriviamo nella casella di ricerca di Google Earth e raggiungiamo il primo risultato disponibile, Google Earth. Siamo dentro l'applicazione, avete la possibilità ora di avviare Earth, o dal basso o dall'alto, avvia Earth. E come vedete siete riportati su una mappa. La mappa è perché io sono a Brescia e quindi mi localizza e poi avevo fatto anche delle ricerche e un progetto su Brescia. Andiamo subito a esplorare il menu. C'è un menu riassuntivo in alto che comunque racchiude tutte le funzioni della mappa. Apriamo le tre linette e troviamo Cerca, Voyager, Progetti e Stile della Mappa, Foto. Questo tasto non è attivo probabilmente di default, bisogna attivarlo per poter avere queste iconcine rotonde accanto ai luoghi. Quindi vi dico di attivare Foto. Poi le impostazioni, potete attivare l'animazione del volo, potete aumentare la velocità e così l'animazione in volo finale. Potete comunque apportare delle modifiche. Non apporto io nessuna modifica per il momento. La prima casella, la prima icona è Cerca. E posso andare a cercare una località, ad esempio potrei cercare Mantova. Invio e mi riporta quindi a Mantova. Vedete che ho disponibile mi si apre una finestrella che mi dà le informazioni su questa città in cui si dice che la città è circondata da tre laghi artificiali eccetera. È possibile mettere, raggiungere ulteriori informazioni sulla città quindi questo aumenta il senso della mia ricerca e poi mi propone di aggiungere Mantova al progetto aggiungi al progetto quindi salva nel progetto non Brescia ma in un nuovo progetto il titolo del nuovo progetto sarà Mantova e vado a salvare questo progetto e troverò poi come potete vedere nei miei progetti progetto Mantova potrei quindi sostituire delle immagini o dei video personalizzati con sostituisci e andiamo in sostituisci posso come vedete aggiungere un'immagine che mi è particolarmente utile che è poi la mia immagine su Mantova e posso aggiungere delle informazioni la mia città adottiva quindi sono nei luoghi di ricerca posso poi trascinare l'omino in Mantova vedete che mi dà la visualizzazione di street di Mantova ok comunque vabbè questa era una visualizzazione e posso acquisire questa vista se mi piace ma penso che ritorno in 2D penso che non non salverò questa vista perché non mi pare altamente significativa vado in fotosferica ritorno in fotosferica e quindi vado invece a raggiungere magari con street view con l'omino vedete che mi dà tutta una griglia azzurra con dei punti caldi e dovrei raggiungere la basilica di di Sant'Andrea questi sono i portici procedendo in avanti con street view ecco questa è la facciata della chiesa di Sant'Andrea posso acquisire a questo punto questa vista e quindi acquisisci questa vista la vista è stata salvata e vado indietro e trovate quindi che Mantua mi dà la mia città adottiva eccetera e posso presentare il nuovo elemento che è questo che è Sant'Andrea torno indietro alla fotosferica questo nuovo elemento circa di quindi aggiunge un segno a posto posso aggiungere un segno a posto a questo elemento quindi seleziona una posizione che è questa ok il segno a posto è Sant'Andrea la basilica di Santa la basilica famosa basilica ho messo anche acquisisci questa vista ok quindi vedete che allora ho Mantua che è comune italiano mi dà qui tutte le informazioni come vedete poi potrei anche andare a vedere che cosa People also explore provincia di Mantua io non lo aggiungo al progetto quindi rimango su Mantua quindi chiudo questa finestrella e vado di nuovo e poi vado mi posso avvicinare andare quindi a cliccare su Palazzo T e attivare Street View quindi posizionare qui Lumino di Street View e andare dentro proprio il Palazzo del Tè di Mantua che è un'opera veramente notevole e posso come vedete visualizzare l'interno del Palazzo di Mantua e posso ritornare a poi allora sempre visualizzando vediamo se mi dà altre particolari informazioni vediamo qua che cosa dove mi porta questo questo tondino azzurro vedete che mi porta in altre sale notevolmente interessanti che posso percorrere naturalmente del Palazzo del Tè qui sono della vista classica interno del Palazzo del Tè che comunque ci propone una serie di esplorazioni interessanti molto interessanti dei luoghi andiamo a vedere quindi che tutto è dentro i progetti quindi il progetto era Sant'Andrea che avevo messo e avevamo visto l'anteprima quindi Sant'Andrea e posso aggiungere un segnaposto e così via cioè è tutto anche questo da vedere e quindi tra i miei progetti non solo trovo Mantua ma anche Brescia che avevo realizzato prima e qui avevo già esplorato i luoghi quindi il museo di Santa Giulia per dire che mi dà tutte le informazioni e anche il quindi riferimento da Wikipedia di Santa Giulia il castello di Brescia eccetera se poi clicco e tutto il resto se clicco su questa icona vedete che mi riporta di nuovo in una visualizzazione complessiva del del luogo quindi questo era il castello di Brescia posso anche qui aggiungere come vedete l'omino di Street View e vedere quindi questo è l'interno del castello di Brescia per dire posso navigare e avere una visualizzazione immersiva poi abbiamo il Tempio Capitolium il Capitolino anche questo è molto interessante andiamo a vedere il Tempio Capitolium e ti dà tutte le informazioni sul Tempio Capitolino posso prendere sempre cliccare sull'omino e vedete che questo è il Tempio Capitolium aspettate il teatro romano andiamo al teatro romano anzi è molto bello vedete vabbè andiamo al andiamo al museo di Santa Giulia ecco come vedete vi dà tutte le immagini che sono disponibili a Brescia qui se si fa scorrere ecco ora ritorniamo indietro e andiamo ad esplorare gli altri menu vediamo ora il menu Voyager ti dà tutti gli incredibili progetti di Google è molto molto un menu molto ma molto interessante come vedete e direi che la prima cosa che andiamo a vedere è il timelapse in Google Earth che mostra come il nostro pianeta stia cambiando osserva queste trasformazioni in animazioni con 37 anni di immagini satellitari cerca sul pianeta posso anche cercare oppure posso andare a individuare le foreste ad esempio inizia a digitare o seleziona una delle seguenti opzioni selezioniamo un'opzione foreste che cambiano ok ti dà ad esempio le coltivazioni di soia in Bolivia in Bolivia e ti fa vedere tutte le trasformazioni che avvengono e sono avvenute nel tempo fino al 2020 e 20 andiamo a vedere ora il riscaldamento globale ti fa vedere quindi gli acciaio della Columbia in questo caso con tutte le variazioni che sono succedute nel proprio tempo quindi iniziamo il nostro viaggio sulla costa meridionale dell'Alaska dove il ghiacciaio Columbia scende dai monti Chugach e si riversa nello stretto di Prince Williams osserva i movimenti del ghiacciaio si fa vedere tutti i movimenti che si è ritirato di oltre 20 km verso nord ed è uno degli acciaio del pianeta che si sta trasformando più velocemente esplorando poi dal menu sempre principale possiamo trovare altre cose interessanti ad esempio la mappa dell'inquinamento atmosferico di Londra e Marte sulla Terra questo ad esempio esplora e andiamo a vedere le isole disabitate della Terra si possono andare a vedere comunque anche Street View ma sulla Terra ritorno posso quindi qui navigare con Street View ecco asteroide o cometa insomma ti da tantissime informazioni che possono essere esplorate possiamo anche uscire da Street View andiamo in fotosferica e vediamo quindi un altro ad esempio l'anatomia di un cratere da impatto e e e e e e e e e Possiamo andare a visitare altri luoghi ad esempio il Parco Nazionale di Zion inizia qui vedete che te lo fa proprio esplorare qui abbiamo a disposizione sei visualizzazioni ecco andiamo avanti e vediamo un'altra visualizzazione e così avvia possiamo fare tutte queste esplorazioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti in Voyager abbiamo quindi esplorato la natura andiamo nel menu giochi e avete dei quiz molto interessanti sui versi degli animali i siti archeologici i quiz del per mettere la prova ha proprio ha proprie competenze per farsene alla fin fine veramente molto ma molto belli possiamo scegliere uno quiz Castelli e Palazzi vai ecco ti dice in quale residenza sono sette domande europea sono stati installati 350 specchi in un unico corridoio diciamo Versailles comunque ottimo inizio la galleria degli specchi a Versailles è stata costruita è stata costruita infatti e ti dà anche la risposta andiamo avanti la domanda 2 a quale castello tedesco è ispirato il castello della bella addormentata di Disneyland boh mettiamo questo è andato bene andiamo avanti era giusto terza domanda se quindi il castello storico circondato da 2000 alberi di ciliegio facciamo il Giappone hai indovinato avanti e quindi la fortezza questa che fortezza è tra Russia ed Estonia vediamo se è questa risposta sbagliata andiamo avanti domanda l'altra domanda qual castello nelle Americhe costruito nel settecento è stato l'unico da avere svolto la funzione di residenza reale? e mexico ottimo avanti domanda 6 di 7 Buckingham Palace risposta sbagliata è il castello di Winston va bene domanda 7 di 7 la fortezza in quale castello vissuto il sovrano realmente esistito a cui è ispirato il personaggio del dono del conte Dracula e dei Bramstoke fortezza dei Poenari ottimo lavoro e ti dà poi alla fine il punteggio che hai raggiunto quindi anche questo può attivare una serie di conoscenze e si può imparare da questi esercizi e quiz comunque ci sono molti altri quiz di vario tipo che possono essere fatti vedete che c'è anche il... dove è finita... cioè ci sono anche dei quiz un po' divertenti per gli studenti che possono essere divertenti col menu livelli poi vediamo di nuovo timelapse in Google Earth le immagini satellitari le immagini 3D la copertura degli acciai nel mondo della banchisa polare la visualizzazione del manto nevoso su Google Earth e anche questo molto interessante degli tsunami nella storia scopri di più su 20 dei più significativi tsunami che hanno colpito il pianeta negli ultimi anni ecco ti dà quindi delle informazioni molto interessanti dal punto di vista della storia poi selezioniamo l'omino lo portiamo magari qui per passare a View Street qui avete la fotosferica delle zone quindi con una serie di collezioni che potete andare ad esplorare ad esempio questo del Giappone vedete e ti dà tutta l'origine del collasso di un vulcano qui del monte Unzen sempre in Giappone il Cile settentrionale e così via poi andando in Street View abbiamo la possibilità di vedere gli incredibili percorsi escursionistici scopri il Giappone la Nuova Zelanda vediamo le maschere qui del Cile ecco ti dà ecco le varie immagini con poi andare poi a navigare San Pedro e così via le varie zone andiamo a scoprire l'Egitto come potete vedere ci colleghiamo quindi all'Egitto e andiamo e ti dà esplora celebri attrazioni come le necropoli di Gissa le chiese ortodosse eccetera eccetera andiamo a vedere la cittadella di Saladino vedete vedete quindi la bellezza di questa esplorazione potete andare avanti nelle altre esplorazioni il Monastero di Santa Mena cioè se uno anche organizza un viaggio virtuale nei luoghi questo è sicuramente il posto adatto andiamo ora nel menu cultura come vedete storia ad esempio dei giochi paralimpici Tokyo inclusiva l'architettura eccetera eccetera personaggi celebri ad esempio della comunità nera possiamo andare a vedere questo o anche altre cose ecco la caduta del muro di Berlino andiamo a vedere esplora e qui ti fa tutta la cronistoria di quello che è successo abbiamo quindi delle immagini che ci vengono restituite con Street View e le epoche vedete che andiamo alla seconda quindi proposta Ungheria al confine con l'Austria che gli inizi degli avvenimenti poi alla 3 Varsavia Polonia tutto da esplorare possiamo vedere sempre nei punti caldi navigando salve il Parlamento andiamo avanti andiamo avanti Praga Cecoslovacchia dell'89 ecco ecco andiamo a navigare come vedete come vedete l'immagine 360 gradi l'ipsia la stessa cosa ci riporta di dentro l'ipsia di Berlino insomma avete tutta qui la storia da far leggere attentamente agli studenti questo c'è questo c'è lo smantellamento del muro di Berlino e quindi con l'apertura praticamente delle frontiere andiamo dentro a vedere questo è Berlino e io ero sotto il muro quando è caduto Bucarest Romania e poi da ultimo vabbè Berlino come che il centinaia di migliaia di persone festeggiarono presso la porta di Brandeburgo alla fine di un anno di svolta il muro era stato battuto è stata c'era una folla incredibile veramente è stato un momento di molta emotività questo della caduta del muro di Berlino andiamo ora in viaggi e quindi qui l'esplorazione del porto i pianti scistici esplorazione del porto esplora Las Vegas tutte le esplorazioni possibili inimmaginabili che possono essere molto interessanti da vedere quindi in viaggi poi andiamo a vedere il menu istruzione ecco e voi trovate delle cose che possono essere interessanti dal punto di vista architettonico le strutture triangolari la geometria dell'architettura sostenibile andiamo in questa non l'avevo ancora esplorata e quindi la possibilità di vedere come la geometria sia proprio applicata agli edifici e qui c'è naturalmente la navigazione di grande utilità anche sapere sulle migrazioni umane moderne l'esplorazione degli ecosistemi della terra e anche cose come le fiabe di tutto il mondo e quindi di letteratura come vedete poi gli esploratori i primi viaggiatori tantissimi contenuti gli esploratori l'era delle grandi scoperte tutto quello che ci induce ad approfondire argomenti di ricerca a scuola due parole sull'icona di mi sento fortunato che ti riporta in posti a caso non è inutile questo perché potrebbe farci scoprire delle zone nuove sconosciute ad esempio qui ti riporta di a caso al monte e potrebbe essere oggetto di una nuova esplorazione e conoscenza da parte degli studenti progetti l'abbiamo già visto vedete ne abbiamo fatti due Mantua e Brescia potremmo farne un altro ecco io mi soffermo su questo soltanto un minuto per dire che potrebbe essere molto stimolante nel lavoro in classe o a casa che gli alunni creassero dei loro percorsi vedete che c'è la possibilità quindi di ricreare dei progetti che siano poi molto ah i progetti poi vengono salvati in Google Drive infatti questa funzione è molto interessante vedete che i miei due progetti Mantua e Brescia sono stati salvati in Google Drive possono essere aperti in Google Drive e navigati da ultimo possiamo anche scegliere lo stile della mappa quindi se pulita vedete esplorazione con i confini le etichette i luoghi le strade tutto personalizzata passiamo ora all'ultima icona che è quella di misura la distanza è aerea questa selezioniamo un posto per qualsiasi questo tiriamo sempre una farmacia e tiriamo una linea dovremmo selezionare un punto di partenza questo e tiriamo una linea qui qui a Palazzo Martinengo esempio come vedete mi da la distanza che c'è tra i due punti che ho segnato dal punto di vista delle misurazioni risulta sicuramente stimolante sapere che esiste anche questa potenzialità un'informazione finale sui progetti che apro il progetto ad esempio di Brescia è possibile questo progetto che lo condivida con tutte le ricerche che ho fatto quindi condividi il progetto con il più e vedete continua quindi mi da il caricamento posso copiare il link e posso aggiungere persone o gruppi anche al mio progetto e chiunque abbia il link ecco può chiunque abbia il link può essere visualizzatore oppure editor quindi sarà possibile con questa funzione condividendo il progetto poter lavorare anche in gruppo su uno stesso progetto i progetti oltre ad essere condivisi possono anche essere eliminati possiamo poi copiare il progetto esportarlo in file kml o segnalare i contenuti inappropriati è molto importante questa sezione dei progetti e la possibilità di organizzare delle attività significative per gli studenti e pratiche per la settimana per la settimana è per la settimana